Negli ultimi decenni la diagnostica per immagini ha salvato milioni di vite, consentendo diagnosi sempre più precoci così come l'avviamento di campagne di screening. Tra i protagonisti di questa storia c'è anche Fujifilm, ai più nota come azienda legata al mondo della fotografia ma che, in realtà, si sta affermando come player nel primordine nel comparto MedTech anche da noi con la nascita di Fujifilm Healthcare Italia. Endoscopie, informatica medica, ecografie, dispositivi diagnostici in vitro, radiografie, TAC e risonanze magnetiche sono campi di applicazione delle soluzioni tecnologiche offerte dall'esperienza aziendale, che servono e serviranno sempre di più a raggiungere tre obiettivi dichiarati, il supporto a prevenzione, diagnosi e trattamento. Dottor Scaperrotta, possiamo dire che esami più precisi porteranno anche un miglioramento delle prognosi nella lotta al tumore del seno? Decisamente sì. Abbiamo molti studi in merito, che sono quelli della possibilità di imparare informazioni sulla natura biologica dei tumori della mammella dall'imaging. Noi sappiamo che le immagini radiologiche in generale, questo vale per la mammella ma per altri distretti, sono ricche di informazioni e probabilmente noi ne estraiamo solo alcune. questa si chiama radiomica, quindi la possibilità di estrapolare informazioni che non sono solo di percezione d'immagine, ma di informazioni biologiche di tumori insensolati. È molto articolato come tipo di lavoro, però ci sono delle piattaforme molto forti che hanno già individuato degli elementi estremamente importanti che possono quindi aiutarci non solo a detettare la malattia, ma a cercare di capire le sue potenzialità biologiche. E questo ovviamente si tradurrebbe poi in una scelta terapeutica più personalizzata possibile, quindi con una differenziazione da tumore a tumore e quindi con la possibilità di fare scelte terapeutiche o di programmazione terapeutica molto più personalizzate, molto più rapide a seconda del tipo di patologia che abbiamo davanti. Ritiene che l'evoluzione delle tecniche di imaging consenterà anche di intercettare la malattia a stadi ancora più precoci? Decisamente sì, è oggetto di studio sia nell'ambito dell'imaging tradizionale, quindi nel mio caso mammografie sempre più performanti, capaci di dettare la malattia nelle sue fasi cosiddette precancerose, quindi ancora prima che la malattia evolva nella formazione del tumore vero e proprio. Questo lo si fa sia nell'imaging, ma anche fortunatamente dal punto di vista biologico, quindi i nostri colleghi patologi e ricercatori stanno individuando sempre di più marcatori della malattia, sia a livello di sangue, sia a livello di distretti corporei generali, dove possiamo andare ad avere informazioni predittive della sviluppo della malattia tumorale. Dottor Giannelli, in che modo il miglioramento delle tecniche di imaging aiuta nella diagnosi e nel monitoraggio delle cure in caso di tumore epatico? La tecnologia certamente rappresenta una tappa fondamentale, considerando che già da oggi lo standard care comprende l'inchiego abbastanza rutinario della TAC, della risonanza magnetica, sia per la diagnosi, sia per confermare la diagnostica, sia poi per seguire i pazienti post-terapia, perlomeno dopo alcune fasi di terapia, soprattutto quella chirurgica, quella locoregionale, ma anche direi quella con terapia sistemica. Adesso vi sono stati presentati già diversi sistemi che combinano varie metodiche, quindi combinano per esempio l'ecografia con le immagini TAC per offrire all'operatore, quindi in questo caso parliamo del chirurgo, un sistema di navigazione attivo per potersi meglio orientare all'interno del campo operatorio e quindi avere una tempistica procedurale minore con una serie di riduzioni dei rischi per il paziente. La funzione dell'imaging può essere rafforzata dallo studio di biomarcatori, ma ci vuole raccontare la vostra esperienza di ricerca come sintesi tra queste due realtà? L'idea è quella di impiegare dei nuovi parametri circolanti biomorali per sia individuare quanto prima l'insorgenza di un tumore, anche stimandone il rischio. Per ora noi siamo impegnati da un punto di vista reale su questa parte, ma il progetto è molto più ampio perché vogliamo cercare di valutare l'importanza di questo nuovo sistema GALAD, questo SCORE GALAD che comprende diversi biomarcatori, la DCP, l'alfa-fetoproteina e l'alfa-fetoproteina fucosilata, che combinato con l'età e con il sesso del paziente indica un numero finale, uno SCORE. Ecco, noi vogliamo valutare l'importanza di questo SCORE sia in termini diagnostici, ma sia anche per seguire questi pazienti durante le varie fasi, ad esempio dopo una terapia, per capire se ci può anticipare in qualche modo la possibilità di recidiva del tumore in quel paziente, se ci può aiutare a capire quanto la terapia sia stata efficace. Questo non è così scontato perché se può essere un po' più semplice per la chirurgia, ma per altre terapie, come ad esempio le terapie locoregionali e la terapia sistemica, poter disporre anche di dati oggettivabili, numerici, come appunto uno SCORE, che possono andare a supportare la diagnostica per immagini, rappresenta sicuramente un passo avanti per una migliore gestione del paziente con ipotocarcinoma. Dottor Campari, ci riassume l'impegno di Fujifilm nell'ambito healthcare? Fujifilm è presente nel settore medicale fin dal 1936, quando iniziò la produzione di pellicole radiografiche per uso medicale e quindi nel corso dei decenni ha sviluppato tantissime tecnologie adatte ai diversi ambiti clinici, ma a partire dagli anni 90 ha poi deciso di investire ulteriormente, quindi di focalizzare la maggior parte dei suoi sforzi proprio sul settore medicale e questo ci ha permesso oggi di arrivare alla creazione di una società dedicata al mondo medicale, quindi Fujifilm Health Care Italia. Fujifilm è presente in tutti gli ambiti clinici, a partire dalla prevenzione alla diagnosi e al trattamento di tantissime malattie, ad esempio nell'ambito radiologico con i nostri sistemi e soluzioni in ambito di mammografia digitale, di TAC e di risonanze, ma anche nel mondo dell'endoscopia con le soluzioni per la gastroscopia e la colonoscopia flessibile, così come tutta l'area dell'ecografia, così come tutta l'area della diagnostica in vitro, quindi con tantissime soluzioni anche in questo campo, e il tutto collegato dall'informatica. L'informatica sempre più è fondamentale e parlo ad esempio dei temi non solo di intelligenza artificiale che oggigiorno vanno molto di moda e sicuramente stanno dando un aiuto nel migliorare il supporto ai clinici durante le attività che svolgono quotidianamente, ma anche tutto quello che è il miglioramento dei processi all'interno degli ambiti ospedalieri e quindi il miglioramento dell'efficienza di come vengono effettuate le diverse procedure cliniche. È possibile coniugare una maggiore accuratezza diagnostica a una minore esposizione radiante in modo da garantire una maggiore sicurezza? Assolutamente, Fujifilm è da sempre molto attenta ad alcuni aspetti. Parlando di radiologia, uno degli aspetti fondamentali è quello della riduzione della dose e all'interno della radiologia in particolar modo è importante continuare a lavorare sulla riduzione della dose in ambito mammografico. Siamo oramai a diverse generazioni di mammografi digitali e ogni generazione ha portato una riduzione sensibile della dose radiante. Questo è un obiettivo fondamentale che ci permetterà ovviamente di migliorare quella che è l'utilizzo dei nostri strumenti.